I linguaggi sono il mezzo che gli esseri umani, e non solo, hanno sviluppato per rispondere al bisogno di creare contatti. Parte da qui l'undicesima edizione del Festival dell'Innovazione della Scienza di Settimo Torinese che coinvolgerà, oltre a Settimo, altri nove comuni del territorio metropolitano. Il festival di quest'anno si intitola Contatti, sottotitolo I linguaggi che uniscono, perché per noi era importante identificare la scienza anche nella sua capacità di creare linguaggio, di essere un linguaggio, di essere molti linguaggi, pensate ai linguaggi formali, la matematica, i linguaggi delle singole discipline, ma anche i linguaggi della didattica, della formazione, i linguaggi della divulgazione, i linguaggi emergenti, pensate alla scienza nei social network, nelle nuove piattaforme, nei nuovi formati editoriali che per esempio il digitale ha messo a disposizione. La scienza è anche questo, la scienza nasce come un linguaggio, nasce come la capacità di affrontare il mondo, di interrogare il mondo e di avere risposte dal mondo dal punto di vista dei linguaggi. E quindi ecco che il linguaggio e il contatto sono due elementi non scendibili, fondamentali, che abbiamo voluto esplorare in questa edizione del festival. Il festival, come ogni anno, si costruisce attraverso diversi momenti e quindi anche affrontando diversi, ancora una volta linguaggi, dai talk alle tavole rotonde, le mostre e poi gli eventi, i concerti, le lezioni spettacolo, i dibattiti e via dicendo. Questa è una formula, secondo noi, fondamentale e soprattutto che è in grado di dialogare col pubblico, in grado di offrire una vasta gamma di possibilità, di temi. E quest'anno i temi saranno tanti, dall'intelligenza artificiale evidentemente, al metaverso, lo spazio, avremo Nespoli, avremo personaggi importantissimi come Roberto Saviano, come Michelangelo Pistoletto. Abbiamo una collaborazione con TikTok che ci permette di portare degli influencer della scienza davvero significativi. Cito un nome per tutto, Chimicazza, che chi è sotto i 20 anni probabilmente conosce molto bene, ma non solo. E poi tante altre cose, dialoghi, anche personaggi di caratura internazionale. Avremo Neil Arbinson, che fa parte della cultura cyberpunk, un uomo che si è fatto installare un'antenna sensoriale sulla testa. Vi consiglio la curiosità. Simon May, un critico che si occupa di digital art. E basta sfogliare gli eventi e i talk del programma e capire che abbondanza avremo. Senza dimenticare le mostre, la mostra come per esempio quella sulla VR con il gruppo ITT e Rai Cinema. Andremo a scovare addirittura Dante nella realtà virtuale. O il concerto La Rimusicazione, fatta da Giorgio Licalzi, su un film importante, Neuropatologia, dei primi anni del Novecento, in collaborazione con il Museo del Cinema. Grazie.